di Fipe, una serie fitta di appuntamenti che facciamo sia la mattina e il pomeriggio per affrontare le tematiche di maggiore attualità del mondo del fuoricasa, della ristorazione in particolare. Oggi affrontiamo un tema sempre nel solco dell'innovazione e della digitalizzazione, però proviamo ad entrare in cantina della serie, ma il digitale può entrare anche in cantina. Ma prima di arrivare al digitale che entra in cantina dobbiamo fare qualche considerazione a monte sul ruolo del vino. Io voglio citare soltanto come faccio di consueto alcuni numeri sul che cosa è accaduto nel 2020 sia alla ristorazione che al vino, solo per darvi anche un quadro di contesto che possa aiutare. Poi presento i nostri ospiti. La ristorazione ha perso 34 miliardi di ricavi nel 2020 sul 2019, di cui circa 31 di consumi delle famiglie, il resto sono consumi intermedi delle imprese. La differenza tra 31 e 34, 30 e mezzo e 34. Che cosa è successo al mondo del vino a cascata? Il mondo del vino ha perso 2,7 miliardi di euro nel mondo del fuoricasa. Rappresentava prima della pandemia circa il 37% del valore del mondo vino complessivamente, la ristorazione. Nel 2020 è passata al 29% perdendo circa 7 punti percentuali. Quali sono le prospettive di chiudere il 2021? Le stime danno un incremento del 19% del mondo del vino arrivando a 5,3 miliardi di euro. Quindi passiamo da 4,5 del 2020 a 5,3 ma siamo ancora sotto di 1,9 miliardi rispetto al 2019. Quindi il mondo della ristorazione è importante, è fondamentale per il mondo del vino, perché lo dicono i numeri, naturalmente è un mercato di sbocco importante. Abbiamo detto che era il 38-37% e è diventato il 29% del valore. Ma lo è anche per un'altra ragione, perché la ristorazione ha anche dei valori immateriali rispetto al mondo del vino, che è fatto di, diciamo, conoscenza, esperienza. Posso anche dire, aggiungere a questo, che nel mondo della ristorazione probabilmente trovano, no, probabilmente, trovano spazio le migliori etichette della nostra produzione enologica. Quindi i vini, ci sono diversi studi su questo. Uno lo fa a medio banca partendo dalle società quotate di produzione di vino. Viene fuori con nettezza che i vini di maggior prezzo, dal punto di vista della vendita, prezzo di vendita, non prezzo di vendita, dal produttore, distributore al ristoratore, transitano per la ristorazione più che per altri canali. Dietro ci sono le enoteche e dietro c'è, naturalmente, la grande distribuzione. Allora, il mondo del vino è così importante e quindi io partirei proprio da qui. Intanto presento gli ospiti e direi uno è da il dottor Giovanni Miscioscia, di presidente di The Winesider, poi vedremo chi è The Winesider, ce lo spiegherà proprio lei. Dall'altra parte Giacomo, se mi scioscia, come posso dire, l'innovazione, passi la battuta, sì, che è il CEO della società. Poi abbiamo Ilario Perrot, che è qui, scusa, ti ho perso di vista, ristorante d'alchimia, è un sommelier, ovviamente è una persona che sa di vino e ci dirà però, non parleremo oggi delle caratteristiche organolettiche dei vini, parleremo della gestione della cantina, che in questo momento credo che non sia da trascurare. Poi abbiamo, e l'ho detto già prima, il nostro Giancarlo De Hidda, consigliere nazionale di FIPE, nonché presidente della nostra società di servizi fuori casa. Abbiamo poi il Nicola Lorenzon, CEO di Feudi di Romance, che è un'azienda che produce vino in Friuli Venezia Giulia. Il Giacomo Cattaneo Adorno, che è sempre il CEO di un'altra azienda di produzione, Castello di Gabbiano, che è nella zona del Monferrato, però so che lei ha anche una parte di produzione in Liguria. Credo che ci sia rappresentato un po' tutto, dal mondo delle imprese, da un imprenditore come Giancarlo De Hidda, che qui lo vediamo in veste soprattutto di imprenditore, oltre che di presidente, perché noi dobbiamo capire che cosa accade. Abbiamo sempre il mondo della ristorazione, chi vive la ristorazione da un punto di vista professionale, ma con un ruolo anche a stretto gomito con l'impresa. Poi due produttori che ci possono dire che cosa sta succedendo, e poi ovviamente i Mishosha per parlarci di questa soluzione che secondo il loro punto di vista, l'idea con cui nasce The Winesider, il presupposto è proprio quella di fare in modo che la gestione della cantina diventi più sostenibile, più semplice e più sostenibile, facendo leva appunto sul digitale. Voi infatti, poi glielo chiederò, siete più che altro, non siete un'azienda di food, siete un'azienda di tecnologia, tecnologica, diciamo di food tech, mettiamola così. Allora, partirei a questo punto, se mi consentite farei un cambio di scaletta, direi, Presidente De Idda, possiamo dire dal tuo punto di vista qual è la discontinuità generata dalla pandemia nella gestione di un'attività di ristorazione, nel controllo dei costi, compreso quello della cantina? e se la cantina è una variabile dipendente o indipendente all'interno di un ristorante, dal punto di vista economico-finanziario? Eccolo. Chiedo su, ecco, vai. Questo non era previsto, ma i funzionari, i dirigenti fanno così, cioè quando devono iniziare un discorso trascinano dentro i presidenti, come nel mio caso, che fa questo mestiere da 50 anni, quindi pensa che se avevano le soluzioni possono essere utili. La prima risposta è, non so cosa succede, come non saranno alcuni miei colleghi che vedo davanti, che cosa è successo l'abbiamo capito, che cosa sta per succedere non lo sappiamo, quanto vale la cantina lo sapevamo, tantissimo, tantissimo perché magari sbagliavamo a fare gli acquisti e questo è il discorso che qualcuno farà dopo di me, perché ma ci chiudevamo l'anno e dicevo dove sono finiti i soldi e ci eravamo trovati in una cantina che era cresciuta a ritmi esponenziali perché le guide, i clienti, gli amici ti dicevano ma come non c'hai questo vino e tu correvi a comprarlo, oppure non hai questa occasione perché non facciamo una serata a tema e vai a comprarlo, poi non hai mai capito se qualcuno era foraggiato per farti queste richieste ed erano i vini che erano probabilmente i più custodi, sembravi un incapace se non tornavi, non solo quella marca, non solo quel tipo di vino ma anche magari una degustazione verticale che era l'ultima invenzione del mondo delle case vinicole, non me ne vogliono perché quando non riuscivano a inventarsi qualcosa spingevano noi a fare le degustazioni verticali che non ho mai capito cosa servissero, sapevo quanto mi inguaiavano nel fatto del risolto, vedo molti che fanno il segno con la testa, molti operatori, adesso siamo in un altro mondo, nel mondo nuovo è dire ho fatto un grosso sforzo per tenermi vicino al cliente, ho fatto il delivery, stamattina ne abbiamo parlato, cioè pur di non perdere il cliente sono andato io a portargli il mio cibo a casa, nelle formule più incredibili perdendo, non perdendo perché non sapevamo se avevamo marginalità, facendolo in casa nel senso con i propri rider che erano diventati camerieri oppure cercando le piattaforme con costi di questo tipo, quindi ritorno a dire per iniziare il discorso perché era questo l'obiettivo, è diventata ancora più importante la sana gestione di una cantina perché puoi far divertire di più il cliente, forse gli puoi fare anche quel pezzo in più di cantina a casa che nessuno ancora ha cominciato a pensare che è il delivery del mondo del vino a casa, con promozioni mirate perché alla fine attraverso la gestione corretta di quelle che sono la marginalità puoi usare questo e per arrivare a una situazione che non sarà più come quella di prima ma è una sana corretta della gestione della cantina che dice non tengo fermo tutto il capitale e il capitale lo uso che ho in azienda per migliorare l'efficienza della mia produzione di prodotto che è la pietanza, la qualità del servizio perché devo investire lì, quindi una sana gestione della cantina non è soltanto per avere marginalità più elevate ma soprattutto per avere quello che noi oggi diciamo dentro il centro studi maggiore efficienza del sistema della ristorazione per riuscire a traguardare o immaginare superare questo momento di crisi. Ok, intanto bene per questo primo giro, passerei a lei Marchese Cattaneo per dire dal suo osservatorio che cosa è cambiato e se è cambiato qualcosa e quali erano le criticità che lei registrava da produttore nel rapporto tra mondo della produzione di vino e ristorazione e cosa pensa accadrà nel prossimo futuro o deve accadere perché quando uno dice accadrà, lo dicevamo appunto prima, sembra che accada in modo ineluttabile, no, le cose accadono se qualcuno le fa accadere cogliendo i segnali che vengono anche a volte deboli, quindi secondo lei che cosa c'era che non andava, che cosa la pandemia ha in qualche modo incrinato maggiormente e quali prospettive si aprono per affrontare i problemi o per migliorare il rapporto tra mondo del vino e ristorazione. Per cominciare vorrei identificare la nostra prospettiva ma che penso che sia la prospettiva della maggior parte delle aziende italiane, una media azienda radicata sul territorio, radicata sulla sua storia, noi addirittura radicate su due territori perché siamo parte in Monferrato dove abbiamo due piccole denominazioni d'origine, il Gabiano e Rubino praticamente nostra e parte in Liguria dove stiamo cercando di rivitalizzare alcune denominazioni storiche, la Bianchetta Genovese, la Coronata, il Vermentino della Liguria che con grandi possibilità ma che per ragioni storiche di sviluppo industriale si stavano perdendo. Credo che sia questo però il panorama della maggior parte delle aziende italiane, aziende che si rivolgono in parte all'esportazione perché il vino italiano per fortuna è estremamente ben visto all'estero, esportazione alla quale tutti i problemi di cui parlerò in Italia anche se in forma un po' diversa si sono verificati quindi forse l'abbiamo potuti verificare e vederne la soluzione anche in anticipo ma che si sono riversati moltissimo sul mercato italiano. Dunque i problemi in realtà c'erano già, non è che prima del Covid, prima della pandemia non ci fossero queste difficoltà. Lei mi parlava prima di una persona di sua conoscenza che aveva una cantina con un ticket medio sui 15-20 euro a pasto, aveva una cantina da 600 mila euro, una cantina molto diversificata. Secondo me il problema non era la cantina da 600 mila euro e soprattutto il problema non era la cantina diversificata, il problema era che questa persona le cose andavano bene, fatturava, guadagnava e non si rendeva conto che probabilmente più di metà di questa cantina stava ferma e che buttava via ogni anno forse il 10-20% di questa cantina perché i vini, probabilmente i rossi addirittura esposti per bellezza in sala e ristorante si erano ammaderizzati, avevano passato l'annata e dovevano andare via. Oggi sei mesi di chiusura, problemi per chi era meno solido finanziari, comunque possibilità di fare ampli esami di coscienza e quindi i ristoratori affrontano la stagione con uno spirito diverso, hanno avuto per carità giugno, luglio, agosto straordinari, probabilmente i migliori mesi che ricordano della loro storia, però sanno che è qualcosa che non dura, hanno paura sempre della quarta ondata che potrebbe arrivare, sono terrorizzati di avere magazzino e quindi si pongono il problema. Questo non vuol dire che non possono offrire a clientela un prodotto diversificato perché la gente va al ristorante perché vuole assaggiare vini tipici, perché vuole assaggiare novità, cose che il ristoratore o il sommelier gli può offrire, quindi non il solito vino che beve a casa. Vuol dire che non possono sbagliare, non possono sbagliare il colpo e lì hanno il problema che durante il lockdown la selezione si è ridotta, hanno a questo punto gli agenti che arrivano e che propongono con forza i brand più noti perché evidentemente i brand più noti hanno anche forza commerciale e quindi molte volte l'acquisto è determinato non tanto dall'effettiva necessità e dall'effettiva rotazione della cantina ma da quelle che sono le mille pressioni esterne. Il Presidente accennava alle pressioni più gentili, a volte sono pressioni più nette, se non mi prendi dieci casse di una certa marca non ti do il resto della gamma e quindi si trovano a fare scelte sbagliate e rischiano di ricadere nello stesso problema che avevano prima della pandemia. Per questo che noi vediamo, noi medi produttori soprattutto, ma credo che il medio produttore in Italia e della forza dell'azienda italiana di avere a differenza che altri paesi una serie di medi aziende che fanno prodotti caratterizzati e di altissima qualità, ci troviamo a sperare che il ristoratore mantenga la lucidità di una scelta diversificata, mantenga la lucidità di una scelta qualitativa e questo forse la decertivizzazione per noi è la soluzione. Grazie, adesso di qua, poi passerò diciamo non in conclusione ma durante la chiacchierata anche a presentare l'iniziativa. Il Marchese Cattaneo diceva la cantina non è un problema in sé, è un problema se non è gestita in modo corretto, in coerenza con quella che è l'attività e allora bisogna anche avere un controllo di gestione della cantina, cioè uno deve sapere quanto vende, cosa vende, ogni quando lo vende, eccetera eccetera, ma oggi nei ristoranti tutto questo c'è come funziona. Adesso al di là della tua esperienza, stiamo parlando dell'alchimia, però so che sei un sommelier e quindi il mondo del vino lo conosci, parli con i tuoi colleghi, conosci il mondo della ristorazione, al di là della tua esperienza professionale più diretta di questo momento, cioè come deve essere gestita correttamente una cantina? Ci sono delle regole, ci sono dei paradigmi, ci sono dei criteri di riferimento dal punto di vista sia qualitativo del prodotto e sia dal punto di vista economico finanziario? La cantina è forse la cosa più difficile di questa ripresa perché i clienti in sé per se all'inizio è come se avesse capito qualcosa, quello che è successo, in realtà dopo il secondo servizio, la seconda uscita che ha fatto, ha iniziato a chiedere perché non c'era quel vino, perché non è stato riacquistato, un po' come se non fosse mai successo niente, noi non fossimo mai stati chiusi sei mesi. Quindi è cambiato molto dopo la pandemia, perché prima è vero quello che hanno detto loro, c'erano per amicizia, per favori, per tante cose compravi dei vini e ti ritrovi in cantina dei vini che veramente non sai neanche perché sono lì quando fai l'inventario. Adesso quello che stiamo cercando di fare, anche parlando con i colleghi, è non più riacquistare come una volta, ma riacquistare meno, quindi tagliare le etichette e avere un controllo molto più forte su quello che è la nostra cantina, nel senso essere precisi in tutto, quindi appena entra la merce, stoccarla, controllarla e iniziare a mettere tutto su dei file, Excel, su tutto, in modo da avere uno scarico perfetto. Il problema è che ci manca un po' di sostegno, nel senso che le grandi case, i grandi hotel soprattutto, ti permettono, volendo, di avere un sistema che già dall'inizio tu riesci ad avere un controllo totale su tutto, nel senso che quando vai a battere sul computer la bottiglia che prende il determinato tavolo, automaticamente la va a scaricare già dal magazzino. E quello è una cosa stupenda, il problema qual è? Che tutto questo ha portato comunque ad avere, tutto questo intendo il Covid, ad avere un grosso problema perché tanti hanno tagliato tante figure e quindi non si riesce più ad avere quella, come dire, quella gestione perfetta. Noi nel nostro cerchiamo di farla, il nostro piccolo, però ci mancano dei sistemi che ti permettano di fare questo, perché la cosa migliore addirittura c'era questo sistema che ci permetteva di scaricare il calice che tu vendevi, quindi alla fine dei cinque calici, quando tu andavi a tarare la quantità esatta di vino che dovevi servire in un bicchiere, lui automaticamente quando il computer sapeva che tu avevi fatto i cinque calici, o i sei calici, poi potremmo fare anche due calici, basta metterlo prima, automaticamente ti toglieva tutto. Quindi è cambiato veramente, veramente tanto. Scusa, non per interromperti, poi puoi tornare, ma io devo una cosa, fammi capire, o facci capire, insomma, ma alla fine al ristorante quanto nella scelta del vino è, diciamo, nella, come posso dire, nella prerogativa assoluta del cliente, che teoricamente il cliente è quello che sceglie, oppure c'è una scelta indotta da parte del ristoratore, del sommelier, che è quello che guida, perché alla fine, parliamoci chiaro, tolte alcune cose, non è che siamo esperti di vino, a parte alcuni appassionati, se ti rimetti nelle mani di un professionista che ti consiglia il vino più adatto per quel tipo di pietanza, ti risolva anche un problema, ma è chiaro che bisogna fare anche attenzione a quella che è il costo della bottiglia per il cliente, perché a volte capita in alcune situazioni, per fortuna non solo la maggior parte, sono una minoranza, che in certi posti ti portano sulla bottiglia che costa di più e questo alla fine diventa un problema per il cliente, ma normalmente quanto può incidere? Adesso molto di più, adesso c'è veramente, non so, facciamo un esempio, noi abbiamo quattro dici tavoli al ristorante, su quattordici tavoli almeno dieci barra dodici a serata vogliono il consiglio, non vogliono pensare e gli altri due tavoli sono due tavoli magari di gente che è esperta, nel senso di gente che ha tanta passione, di gente che a casa ha una cantina forse più bella ancora di quella che possiamo avere noi al ristorante, ma c'è una richiesta adesso altissima di... Però qui si apre un problema, se tu hai quattordici tavoli, dodici si fanno guidare e due sono di esperti che chiedono quale bottiglia. Allora, io penso che uno, siccome i clienti sono clienti che si fidelizzano poi nel tempo, alla fine tu riesci a costruire anche la carta che è in grado di soddisfare tutte queste cose, quelli che tu guidi nella scelta in modo corretto e consapevole e quelli che invece sono esperti gli costruisci qualcosa di dedicato, perché è chiaro che se dovessi andare random ogni volta su due tavoli dovresti avere una cantina dove c'è tutto e qui si pone il problema della sostenibilità. Quello sì. Bisogna avere, nel fare la carta del vino ci va un 10% secondo me di passione perché la passione è come diciamo prima di quel ristoratore che ha 600.000 euro, sicuramente c'è tanta passione in lui, però un po' di passione nella tua carta ci deve essere perché sennò diventa troppo impersonale. Il restante deve essere un mix, nel senso bisogna capire bene anche dove tu ti vuoi porre perché anche la tua fascia di mercato è importante, nel senso io ho la fortuna di lavorare e ho sempre lavorato in ristoranti che magari puntavano alla stella o alla seconda o alla terza, quindi avevi una certa disponibilità e il cliente, prima si parlava del, il presidente diceva delle verticali, lei pensi che quando noi lavoravamo passiamo da una a due stelle, tanti clienti ci criticarono la carta del vino perché non c'era verticalità all'interno, quindi non era solo, cioè era qualcosa in più, erano i clienti che venivano neanche i venditori, erano i clienti che ti dicevano ci deve essere 10 annate di uno, 10 annate dell'altro, quindi noi viviamo veramente in mezzo a tanti fuochi, però nella carta del vino, bravissimo, bravissimo, però devo dire che il cliente si affida tantissimo, quindi non bisogna deluderlo, bisogna essere pronti soprattutto a capire e a cercare anche di fidelizzarlo per far sì che la volta dopo che torni sia ancora più aperto al consiglio, anche chi ha scelto la bottiglia in sé per sé, magari la volta dopo deve essere aperto a farsi consigliare e questo ci permette di avere sulla cantina un controllo maggiore, dall'altra parte bisogna avere in sala chi lo fa, perché poi io non so quanto questa persona che aveva questa super cantina avesse in sala una persona capace di poter fare tutto questo. Mi stai dicendo che il vino va venduto? No, va venduto, il vino va venduto perché non è, cioè il consiglio, io posso dare un consiglio, ma poi io molto spesso dico, quando tu mi chiedono ma cosa ci abbineresti, perché poi questa è la domanda, io dico va può essere, facciamo un esempio, un bianco, per farla molto basica, e li vedi che te antenano, perché magari vogliono bere un rosso, quindi la soluzione la si trova sempre, bisogna solo esprimersi e cercare come dire, hai voglia di bere una cosa, devi bere quello che hai voglia, la troviamo la soluzione, però ci deve essere data a parte una persona che è capace, il problema è che c'è sempre di meno questa figura, perché ormai la figura del sommelier in sé per sé rimane secondo me nei grandi hotel, nelle grandi catene che ti permettono, uno di comprare, senza tanto badare a spese, non esageratamente, e due di essere proprio la figura del sommelier, quello che controlla la cantina, quello che controlla il venduto, quello che, cioè, e hai due o tre persone sotto di te che seguono tutta l'altra parte, quindi seguono il cliente. Qui si apre un problema anche di asimmetria concorrenziale, perché quando tu dici gli hotel, poi non voglio divagare, però c'è un problema a monte, la questione, e noi abbiamo delle esperienze anche romane da questo punto di vista, che sono state antesignane rispetto a questo problema, è evidente che il core business di un hotel non è la ristorazione, è un altro, e quindi la ristorazione può diventare l'attrattore, dove si investe, ma a volte anche perdendo, chi lo fa come attività core non può fare lo stesso ragionamento, quindi si crea appunto questa asimmetria, questa fuga dei grandi chef, sono tutti in hotel praticamente, esatto, la dice lunga su questo, quindi noi vedremo anche degli effetti non positivi. Passo a questo punto, e poi chiudiamo il primo giro, a Nicola Lorenzon, anche lui è un produttore, Feudi di Romance, Friuli Venezia, ci puoi dire un po' la tua produzione, prima la tua azienda, brevemente com'è anche per capire il contesto? Un'azienda familiare che però è arrivata a 520.000 bottiglie annue, venduta per il 45% in Italia, il resto l'estero, sono circa 26-27 paesi, però ancora adesso la parte Italia è molto importante, che è anche quella un po' più difficile da gestire, poi perché la devi gestire direttamente, mentre l'estero ha il distributore che poi alla fine fa a lui il problema, qui invece ce l'abbiamo noi, il problema con la ristorazione. Ecco, il tuo rapporto con la ristorazione, possiamo darci del tuo rapporto con la ristorazione com'è? È migliorato, è peggiorato con la pandemia e che prospettive ritieni ci potranno essere con la ristorazione e come si fa a gestire bene una cantina secondo il punto di vista di un produttore? Ma allora, noi la nostra... Molto onesto, diciamo che... Devo essere sincero, io e i fatturati adesso mi stanno dando anche ragione, è migliorata la situazione, perché quella ristorazione... Io, il mondo del vino è importante, la digitalizzazione, però è anche molto importante il rapporto che si ha con le persone e il servizio, questo è la cosa fondamentale. Tante volte uno può bere del vino ottimo, ma se non dà il servizio al ristoratore, quindi non gli va incontro alle sue esigenze, una volta si vendeva i 10 cartoni da 12, adesso ovviamente c'è il problema che non hanno magazzino, non hanno una gestione della cantina come si parlava e quindi hanno magari delle piccole cantine piene, non sanno dove mettere e si pensa perfino di dover fare il cartone più bello perché deve essere messo in mezzo al ristorante perché non hanno posto, quindi ha cercato di andare incontro e ha migliorato anche un'altra cosa che io almeno l'ho vista, sembrava strano, sono diventati più bravi nei pagamenti. Ecco, una domanda che volevo fare è chiedere se i ristoratori sono... Nel nostro, ammetto, con stupore, abbiamo avuto i problemi prima dove il Covid ha aiutato a... era una scusa perché magari erano già prima, però io ho visto che questa situazione anche di avere ordini più piccoli per noi probabilmente è un po' più problema, abbiamo più costi, più logistica, però li porta a avere anche delle fatture più piccole e quindi di andare incontro a essere un po' più... Cioè, insomma, la sintesi, se poi vuoi aggiungere altre cose ma poi facciamo un altro giro, è che le cantine non vanno riempite a caso perché non solo è un problema per il ristoratore ma è un problema anche per il produttore perché rischia di riempirle, vende ma poi può avere problemi dal punto di vista della solvibilità. Ha toccato un punto importante, lo dico sempre anche ai nostri rappresentanti, che tante volte vanno lì cercano di spingere 10 cartoni, 15 cartoni, ma se vai da un cliente che non ha cantina, gli immogli lì 15 cartoni, questo qua ogni volta che vede questi 15 cartoni, oh guarda quanta roba che ho, guarda quanta roba che ho e va un po' a non affezionarsi a quella cantina. Se invece tu ne dai meno, questo lui fa fuori, dice cavolo, quel vino lì è andato bene quindi tende a essere una vendita migliore perché la vendita spot in questo momento non serve a nessuno, non ci fa crescere, se non per quella vendita lì, quindi la vendita spot. Che tipo di clientela avete come ristorazione, che tipo di ristorazione appunto, come posizionamento? Andiamo un po', abbiamo diverse linee quindi possiamo toccare da l'entri, diciamo la ristorazione più semplice fino ad arrivare anche a qualche stellato, con entrambi che ti danno soddisfazioni diverse perché tante volte vai nella trattoria della zia che dici madonna, guarda che posto, invece vende grandi vini e dai un rapporto che magari lo porta avanti da 10 anni, da altra parte certe volte trovi altri dove il caposala ha le sue idee, non riesci a confrontarti e quindi non riesci neanche tu a dare il consiglio che vuoi o far capire magari che quel vino può darti un risultato. Tante volte anche bisogna capire che certi vini sono bellissimi, ti fanno una cantina bellissima però dopo alla fine quando lo metti nella carta vini non puoi fare certi ricarichi quindi hai anche un po' di... Voi fate formazione sul... Io faccio formazione specialmente a... ci faceva perché dopo ho visto... Questo è stato un problema, ecco, con la Covid la formazione tramite le piattaforme non ha avuto... Secondo me perché magari non riusciamo a dare, a passare veramente la passione che abbiamo per il vino che è una cosa di famiglia, invece quando c'era la possibilità di fare i vari affiancamenti di andare in giro con i rappresentanti, lì organizzare, anche organizzare delle degustazioni era una cosa interessante perché si spostava e si cercava di capire un po' tutto però la formazione è fondamentale. Però non fate la formazione ovviamente sugli aspetti economico-finanziali di gestione? No, però c'è un altro problema sulla formazione, che c'è un giro dei camerieri talmente veloce che tante volte la formazione dovresti farla praticamente ogni mese perché c'è mancanza di personale e quindi questo crea delle problematiche specialmente per chi gestisce la cantina e quindi c'è talmente tanto giro di personale che se lo rubano un po' fra di loro. Diciamo poi torniamo che noi con 243.000 posti di lavoro persi nel 2020 sul 2019 116.000 a tempo indeterminato non è facile andarle a ritrovare adesso quindi questo problema che sta emergendo. Dottor Miscioscia, adesso vengo a lei, ci diamo del tuo. Ecco, vengo a te per, ripeto, Giovanni Miscioscia che è il presidente di questa food tech che si chiama The Wine Cider. Credo che peraltro tu vieni anche da altre esperienze che sono anche piuttosto distanti da questo mondo e magari è anche interessante capire come si passa da certi contesti al mondo delegato al cibo poi è chiaro che qui si parla di tecnologia ma sempre qualcosa di vino bisogna capire perché come è nata quest'idea di pensare ad una soluzione che punta a digitalizzare la cantina e poi ci racconta anche che non è soltanto un problema di servizio di tipo tecnologico perché voi vi occupate per chi vuole anche di gestire l'approvvigionamento con una soluzione diciamo particolare che è quella del conto vendita. Raccontaci tu un po' come nasce l'idea perché io dico che se c'è un'idea deve nascere per soddisfare un bisogno non per fare un giocattolo insomma. Assolutamente sì ma direi che è molto semplice perché gli interventi precedenti hanno messo in luce le problematiche della gestione della cantina cioè la cantina troppo grossa, troppe referenze, le referenze che non girano non si conoscono cioè quindi avete messo in mostra esattamente quello che noi abbiamo verificato ormai l'inizio dell'esperienza all'incubatore al Politecnico di Torino quattro anni fa. Quindi nasce in ambiente universitario? Nasce all'incubatore al Politecnico di Torino e la logica era esattamente questa c'è un problema, il mondo della ristorazione ha un problema non ha scoperto la digitalizzazione ma lì in teoria ma siamo anche indietro sulla gestione del food cost o del beverage cost c'è proprio un problema gestionale. Se il ristoratore, le nostre verifiche sono state, se il ristoratore era però più attento ai costi del cibo perché lo lavora, perché lo conosce di più meno attento nei costi del beverage tanto è vero che poi viene fuori che il beverage molte volte è una passione però questa passione, come dire, un nostro ex presidente del consiglio aveva passioni diverse qualche ed uno ha riempito la cantina però non era un vantaggio economico forse io che ho una certa età quando l'inflazione era al 15% forse poteva anche starci ma oggi non ha nessun senso. Quindi proprio per tutte queste cose che ci siamo detti fino adesso l'idea nasce proprio da questo, da portare l'innovazione grazie alla tecnologia l'innovazione di processo in un mondo che non è molto addentro a queste cose ecco questa è come nasce poi Giacomo mio figlio vi spiegherà nel dettaglio quali sono i vantaggi oggettivi di questa analisi e tutto questo parte dalla tecnologia perché noi non ci vogliamo contrapporre al piacere del ristoratore di scegliersi dei vini o dei sommelier di scegliersi noi vogliamo dargli la tecnologia perché grazie allo scarico automatico sapere cosa gira da cosa non gira i sistemi di intelligenza artificiale che ti mettono in condizione di avere dei big data vogliamo mettere o il ristoratore o i sommelier nella condizione di scegliere di poter dire accidenti primo non devo perdere ore per controllare cosa ho in cantina non devo perdere ore per fare i riordini perché si possono fare automatici ormai la tecnologia è a tal punto che non c'è nessun motivo se non il piacere di ricevere 10 persone alla settimana per fare un ordine forse diventa un disservizio più che un piacere è meglio usare quel tempo per migliorare i processi per come diversi nostri clienti vedo lo usano per fare PR con i loro clienti quello rende fare PR con i propri clienti sia sui social che di persona quello rende mettersi a contare le bottiglie in cantina scusate ma non rende niente il telepass ha risolto un problema di uno che dava arresto e non era un grande valore aggiunto la tecnologia consente tutto questo noi siamo i primi in Italia a ciclo completo a fare questo servizio perché dico a ciclo completo perché noi non vendiamo un software vengo alla tua domanda noi vendiamo tecnologia ma la usiamo noi cioè noi diamo il servizio finale cioè non chiediamo al ristoratore di diventare un digital che deve andare a imparare un software no, noi gli chiediamo di fare un solo gesto e il nostro sforzo è sempre di trovare nuove metodi per fargli fare questo gesto in maniera più semplice possibile lo scarico oggi noi diamo un tablet dove il ristoratore vende una bottiglia clicca come avesse comprato su internet clicca e ha scaricato da lì parte tutti i processi che i software consentono di fare ecco, questo, chiediamo al ristoratore solo questo ripeto, poi Giacomo poi si andiamo mi chiedevi, ma hai fatto una domanda su, non mi ricordo più no, ma anche io non mi ricordo ma ce ne è affronta un'altra per dire due cose la prima so che non fate soltanto questa cosa del tablet perché c'è il conto vendita c'è anche un'attività magari questa più utile per coloro che devono avviare l'attività di costruzione della carta dei vini in coerenza con il posizionamento del ristorante con il menu è evidente che si parte dal punto di vista che dietro c'è un'etica che punta a far girare bene la cantina perché io per esempio ho assistito a delle situazioni perché vissute direttamente sto parlando del mondo del caffè in cui a dei giovani imprenditori che erano partiti per fare un locale peraltro un ristorante gli hanno fatto un contratto sul caffè che non era neanche del miglior bar alto vendente quando questi hanno chiuso perché non potevi non chiudere se non sei capace di capire quella roba lì e si sono trovati a pagare ancora le forniture di caffè di un locale chiuso allora da questo punto di vista due cose il conto vendita e poi l'altra cosa dei big data tu dicevi che c'è questo patrimonio ma questo patrimonio verrà condiviso con il singolo ristoratore per fargli capire perché lui abbia contezza di tutto anche del profilo un po' no? di quello che sta avvenendo nel mondo del vino perché questo è fondamentale per fare delle scelte poi passo la risposta è assolutamente sì allora il conto vendita noi la prima domanda che ci siamo fatti è stata come possiamo dare un contributo al mondo della ristorazione perché queste cantine sono importanti sono complesse e sempre lì la tecnologia ci ha consentito perché attenzione anche noi dobbiamo stare attenti ai costi quindi se un ristoratore il giorno zero compra i vini per il suo ristorante gli arrivano 10 rappresentanti e con quello che hanno detto loro senza ripeterlo tu ti ritrovi come ridere aver comprato 20, 30, 50 mila euro di vino noi non è che gli diamo in conto vendita 50 mila euro di vino noi gliene diamo diciamo 5 mila perché sfruttando il sistema digitalizzato non c'è bisogno che lui riempia la cantina o addirittura affitti due box per riempirli di vino che non ha senso noi gli mandiamo il minimo indispensabile per non andare nelle rotture di stock il sistema calcola le rotture di stock calcola tutto con l'intelligenza artificiale impara i consumi e quindi può predire quello che sarà la necessità quindi questo consente di non avere magazzini pieni e a noi di poter dare in conto vendita che vuol dire ti consegniamo la cantina che hai deciso tu cioè che noi ti abbiamo messo a disposizione con una tua scelta e te la diamo in conto vendita ovvero quando hai venduto la bottiglia settimanalmente ogni bottiglia digiti settimanalmente ti diciamo hai venduto 100 bottiglie ti rimandiamo le 100 bottiglie e le 100 bottiglie che hai venduto ce le paghi questo è il sistema quindi di fatto un sistema virtuoso che lo è per il ristoratore per il produttore perché se il vino viene venduto e pagato tutta la filiera ne trae beneficio perché poi ovviamente i produttori chiederanno a voi di essere pagati assolutamente quindi di conseguenza assolutamente ecco Giacomo dal punto di vista più tecnico anche se abbiamo più o meno diciamo capito poi dopo chiederò se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda dopo aver chiuso magari un po' un altro giro ci puoi aggiungere qualcosa dal punto di vista diciamo delle caratteristiche tecniche di questa foodtech Certo allora fondamentalmente il tutto si basa sull'efficienza e The Wine Sider appunto è una foodtech company che fa questo servizio proprio per ottimizzare il ristorante in tanti aspetti abbiamo parlato di tante cose quando parliamo di efficienza parliamo di efficienza sia dal punto di vista appunto del cash flow e quindi ovviamente il tema del conto vendita è un'efficienza finanziaria abbiamo parlato di efficienza per quanto riguarda la gestione della cantina e quindi gli spazi che ci sono a disposizione l'altro giorno eravamo a Milano da un ristoratore che come dicevamo prima ha affittato dei box per mettere appunto degli stock per il vino che poi si vanno a tramutare a sommare i costi della bottiglia perché poi bisognerebbe assommare quei costi dell'affitto anche appunto sulla bottiglia stessa e l'efficienza poi The Wine Sider la trasforma anche in quelli che sono nei processi all'interno del ristoratore stesso nel senso che prima parlavamo in alcuni Dario dell'aggiornamento della carta dei vini per esempio che oggi noi la diamo sia in versione digitale che in versione cartacea ma la tecnologia cosa permette? permette di avere praticamente il dato e una volta che si ha il dato la carta dei vini non deve essere più aggiornata manualmente anche quella stampata noi oggi vediamo una soluzione che si aggiorna in automatico grazie appunto alla database che c'è dietro e quindi con un semplice click mi stampo di nuovo la carta dei vini quindi della serie scusa non volevo interromperti ma per dire non ci saranno più situazioni immagino della serie voglio questo è finito allora quest'altro è finito non c'è più assolutamente questa cosa dovrebbe finire perché la carta si può aggiornare in tempo reale assolutamente sia la carta digitale che noi già forniamo con il nostro servizio tramite QR code che viene appunto scannerizzato col cellulare del cliente e quella carta tra l'altro digitale avrà la possibilità di dare un sacco di informazioni in più al cliente finale per far vedere veramente i produttori alle spalle che cosa fanno quindi immaginiamo che io sul cellulare posso addirittura andare a vedere un video della cantina oggi abbiamo due produttori che possono raccontare tramite appunto l'esperienza anche digitale in questo momento una realtà che la carta cartacea non poteva oppure nei ristoranti appunto magari importanti dove Ilario ha lavorato e ci sono persone con professionalità possono essere raccontate dal sommelier ma come abbiamo detto prima purtroppo oggi nella ristorazione manca di tante professionalità e anche di tante figure che possono portare questo valore aggiunto al tavolo e quindi il fatto di avere degli strumenti che supportino il ristoratore anche in quest'ottica è molto importante e poi per quanto riguarda appunto l'efficienza nello specifico si arriva poi ai big data agli analytics e lì ci sono una serie di dati che possono essere appunto tirati fuori quindi l'invento di turnover ovvero quante volte ruota il magazzino piuttosto che il GMROI che vuol dire il gross margin return on inventory questo parametro praticamente specifica semplicemente quanto è efficiente veramente il magazzino è lo stesso parametro che usano nei supermercati piuttosto che appunto nelle grosse catene che vanno ad identificare rispetto alla marginalità del prodotto quanto quel prodotto è profittevole per l'azienda ecco oggi credo che nella ristorazione questi concetti siano molto lontani e quindi c'è un grosso gap proprio di formazione delle persone in quest'ottica che devono vivere più il ristorante secondo noi come un business veramente e non come una passione che è giusto che sia anche così ma deve essere una passione sostenibile altrimenti diventa poi un po' un suicidio da qualche punto di vista anche questa cosa non so se devi aggiungere ancora qualche punto poi questa cosa della realtà aumentata è interessante francamente non ci avevo pensato il fatto di poter inquadrare un QR code qualcosa che ti fa vedere la cantina le informazioni su quel vino quindi di fatto si può fare anche un passaggio lì si può costruire un sistema virtuoso passo dietro e per di nuovo andare dal l'altro sì eccomi Presidente Dehida tu hai ascoltato tante cose che pensi pensi che qualche cambiamento vada fatto va sperimentata qualche soluzione come questa pensando anche a un ristorante come può essere il tuo è sostenibile una cosa che si debba fare lo vediamo tutti i giorni che questi siano gli strumenti che ci aiuteranno a capire dove stiamo sbarcando è indispensabile una battuta è che bello se dovesse succedere di nuovo il cliente mi dica voglio questo vino e dire finito no perché ultimamente non capitava no perché eravamo chiusi o anche perché non riuscivamo a fare la rotazione in più il pezzo non dimentichiamoci che stiamo andando a finire se ci sarà la ripresa in un momento di inflazione se arriva l'inflazione ci saranno dei passaggi potrebbe sbagliare la ristorazione pensando di fare carichi di cantina perché saranno i differenziali di prezzo che genereranno la marginalità sarà ancora più difficile individuarlo ecco però quello che io dico al mondo della produzione specialmente agli amici friulani che mi vedono molto vicino da sardo no che è un pezzo cioè un'azienda come la sua che fa 520 mila bottiglie a spanne perché è un modo di pensare dell'oste ve l'ho già fatto i conti in tasca quant'è il suo fatturato allora dovete ancora ragionare che abbiamo bisogno di voi abbiamo bisogno di voi per capire qual è la tipologia del vino in una ristorazione moderna moderna intendo che a pranzo c'è qualcuno che vuole il bicchiere di vino ed è uno sforzo immane vendere il bicchiere di vino a pranzo perché tutti bevono solo acqua e quindi abbiamo bisogno di avvicinarlo poi ci sarà la sera del mondo si dice dei vini da meditazione tanto raccontati dall'amico Veronelli da quelli che voi conoscete cioè basta alcol perché non vendono più perché non si beve più alcol perché abbiamo bisogno della abbiamo paura della pattuglia e quanto rappresenta il mondo dell'analogia del fine pasto del vino da dessert che ancora noi non abbiamo sperimentato e che ha marginalità dice l'amico sommelier lo sa meglio di me perché poi c'è la grande ristorazione la grande ristorazione è quella che abbiamo detto che continuerà ad esserci ma la pancia quella che abbiamo considerato della ristorazione italiana che è il valore aggiunto anche della competitività del modello turistico italiano si viene in Italia per mangiare per gustare la nostra gastronomia che è la gastronomia anche quella del vino ecco questi lavori insieme di capire dove stiamo andando a sbarcare costruire un vino che non è nel termine del vino di prezzo perché deve costare poco deve essere prima di tutto buono così come la ristorazione deve essere sana e buona il vino deve essere buono ma deve essere competitivo dovete fare uno sforzo individuare quel prezzo di vino da bottiglia da stampare che sia in grado di remunerare poco perché lo so che mi serve poi legare il cliente e poi i grandi vini con la rotazione qui lo strumento che avete usato fino adesso in cui devo essere in grado di avere una grande carta dei vini grande nel senso qualificata non grande numerica se no finiamo io il mio presidente lo chiamavo il presidente Stoppani che era PEC io lo chiamavo sottonatale finito natale e gli chiedeva è finito l'inventario e lui diceva sì sapete qual era la sua giacenza 10 milioni di euro ma era PEC perché aveva le bottiglie di Chateau Petrus aveva le bottiglie di Chateau di Chem una ristorazione così non può essere pensata può essere pensata dove di bottiglia ne ho uno quindi lo strumento la rotazione diventa fondamentale e mi aiuta a fare innovazione perché la mia innovazione passa nell'abbinamento dell'oste qui parlo da oltre nell'abbinamento pietanza vino e quindi quella che dice lei che è un'innovazione di processo di controllo dei costi di gestione ma presidente visto che la tua saggezza e non è per piageria lo sai no no non è per piageria ti devo fare una domanda un po' scomoda perché tanto non voglio andare fuori tema perché stiamo parlando di un'altra cosa però il tema hai toccato il tema dell'inflazione e il tema del prezzo questi ricarichi sul vino al ristorante no dal tuo osservatorio di imprenditore di ristoratore quindi uno che conosce bene la ristorazione sono corretti perché dicono che è sbagliata a fare i ricarichi se parliamo di 6-7 anni fa forse oggi no oggi così come andiamo a inventarci le pietanze con una certa percentuale di manualità che vuol dire costo del personale perché mio papà mi aveva insegnato una cosa guarda che servire un bicchiere d'acqua o servire una coppa di champagne costa uguale detto questo a questo punto devi sfruttare questa occasione una volta che sai calcolare quanto costa servire è giusto servire un bel prodotto quindi è scomparsa nella ristorazione fatta in maniera professionale di avere quella percentuale di ricarico che è ingiustificato oggi è difficile trovare in giro per la ristorazione italiana una carta dei vini che in questo momento non è equilibrata l'hanno capito tutti che non si possono fare anzi c'è qualcuno io ho visto carte di quest'anno dove ci sono le bollicine dove hanno servito champagne a 50 euro bottiglia sfruttando un'occasione del genere dire ma perché nel tuo festa magari sarà fra una settimana non bevi oggi una bottiglia di champagne che è il prezzo che sarebbe in Enoteca senza servizio senza il bicchiere senza una lava bicchieri che bisognerebbe comprare a parte perché poi dice degusta il vino e abbiamo qualche azienda che non hanno la lava bicchieri dedicata dove si lava anche la tazzina di caffè questo sarà il passaggio che noi avremo perché è logico è inutile parlare di vino è inutile gestione di cantina se tu non hai 5 mila euro da investire su una lava bicchieri perché il bicchiere sarà bello grande poi sarà ridel o sarà di vetraccio però quello ti dice degusta il vino ma se puzza poi di fondi di caffè non funzionerà mai grazie Marchese Cattaneo a lei una riflessione su quello che ha sentito e anche su questa dal suo punto di vista The Wine Cider questa soluzione adesso è The Wine Cider digitale che tipo di vantaggi può avere per un produttore come lei dunque i problemi sono emersi mi sembra sono emersi con estrema chiarezza è emerso un concetto che per un produttore che non è detto che aver venduto 10-20 cassette a un solo ristorante sia un successo se poi quel vino non viene venduto anzi non ti guarderà più con quella simpatia magari con cui aveva accolto il tuo prodotto di qualità Wine Cider è certamente non dico che sia la soluzione ma una delle soluzioni si pone come nel panorama di una ristorazione che affronta la ripresa con grande coraggio e con grande entusiasmo ma credo anche con successo perché ripeto da quello che so io gli ultimi 3-4 mesi sono stati mesi ottimi per la ristorazione che in parte hanno cancellato le sofferenze dell'ultimo anno e i ristoratori quindi che con grande professionalità e con poche volontà di sbagliare esaminano le loro soluzioni secondo me esamineranno anche la possibilità di avvalersi del servizio di Wine Cider certamente avremo il ristorante stellato che vorrà addirittura la verticale avremo i ristoranti invece che affrontano il problema sempre in maniera un po' più parziale disordinata ma la maggioranza cercherà di avere una carta equilibrata che si accosterà e si appaierà giustamente a quest'altro fenomeno che abbiamo visto un maggior dettaglio un maggior manualità anche nei menu noi oggi nei menu anche dei ristoranti non stellati di livello medio vediamo piatti particolari piatti del territorio piatti fatti con passioni fatti a miano ecco questi hanno bisogno di una carta diversificata senza eccessivi investimenti capitale e questi sono i clienti potenziali anche di Winesider grazie grazie Ilario dopo questa chiacchierata tu allora che cosa ti porti a casa in più magari anche zero o uno non lo so e che cosa che messaggio vorresti lanciare ai ristoratori e ai produttori per ripartire in un modo corretto sul vino io credo che tutto quello che hanno detto lo sposo ci sono solo due o tre cose che io vedo leggermente diverse ma perché poi ognuno ha le sue le sue visioni nel senso un po' sulla carta dei vini sui prezzi a me piace andare in giro quindi il mio giorno libero è dedicato a uscire e vedo che tante sono con dei ricarichi che io personalmente conoscendo i prezzi li trovo un po' fuori da qualsiasi norma e sono iniziano a essere tanti secondo me a Milano? non solo a Milano non solo a Milano può essere anche a Torino dove posso vado tornando in un giorno cerco di fare la distanza o un dia certo e quindi secondo me su quello c'è ancora tanto tanto da lavorare perché il ricarico viene lasciato un po' ognuno faccia un po' come vuole chi fa il tre chi fa il quattro chi fa il tre più l'iva arriviamo a dei prezzi però aspetta ti lancio qui una cosa perché questa roba io non l'ho mai capita allora è chiaro che il ristorante non vende vino vende quell'esperienza chiamata pasto no? pasto è quello che c'è intorno allora è evidente che tutto deve stare insieme cioè faccio un'osservazione banale se il ricarico il vino ha un peso all'interno del pasto anche in termini proprio di ricavo se io modifico il ricavo che viene dal vino devo necessariamente in una gestione corretta sto ragionando in modo corretto modificare il ricavo che viene dalla parte food food intendo il resto anche il vino è così allora questo ragionamento bisogna farlo insieme perché se io vendo solo vino allora c'è un problema di capire se c'è coerenza tra i ricarichi e quindi il ricavo che viene dal vino e il conto economico del ristorante ma se lo metti col pasto se uno consuma un piatto oggi al ristorante massimo due no? e tu devi fare i prezzi sono cambiati anche per questo perché noi scoprimmo ormai tanti anni fa la famosa destrutturazione del pasto no? non è più primo, secondo e contorno ma è un piatto massimo due ed è chiusa allora è chiaro che tu devi modificare tutta la composizione dei prezzi allora io dico immaginiamo che domani tutti i ristoratori facciano prezzi sul vino più coerenti non è più il ricarico 1-3 no? eccetera ma coerenti rispetto anche al servizio che fanno sul vino però questo va combinato con il ricavo che viene generato dal coperto quindi queste cose starebbero reggerebbero non so se avete capito quello che intendo dire no? bisogna capire se tutto si regge sì l'unica cosa che facendo questo tanti anni vedi la cucina loro fanno tanto producono tanto lavorano tanto cioè è vero aprire una bottiglia di vino è una bottiglia di vino nel senso siamo sinceri lo possiamo aprire a casa proprio chiunque quindi il lavoro che c'è dietro l'apertura o lo stoccaggio di una bottiglia di vino non è la stessa cosa che fare una leva alla royale quindi sicuramente il costo del cibo è più giustificato in tanti casi perché nessuno si rende mai conto che un cuoco è lì tutto il giorno ci mette anima e corpo per fare un piatto davvero da zero cioè da zero dalla lepre mi viene in mente la lepre perché è arrivata da poco da zero che ti arriva la lepre lavori la fro ci sono un sacco di cose dietro il vino lo prendi lo metti in cantina te lo ordinano vai su lo apri quindi è più facile però alzare il prezzo del vino non so come dirti è difficile da spiegare io ho capito perfettamente cioè io dico solo però che alla fine io devo come ristoratore devo avere da un coperto un certo ricavo perché l'azienda sta in piedi e garantisca l'occupazione di chi lavora lo stipendio e anche un margine di profitto se io modifico siccome il vino mi consente di poter fare quel tipo a prescindere dal giusto qui non esiste il giusto esiste quello che è funzionale a un obiettivo di ricavo dell'azienda mi consente di fare quel lavoro di ricarico perché sul vino il cliente lo tiene se io modifico da una parte devo modificare dall'altra e quindi posso aumentare un piatto da 18 euro 15 euro a 22 o mi conviene aumentare la bottiglia del viaggio quindi ecco sono tutte cose che bisogna ragionare io comunque ho chiaro quello che dici andiamo in chiusura poi chiederò se qualcuno vuole fare una domanda per fare una battuta anche tu che cosa che suggerisci ai ristoratori per migliorare la gestione della cantina e quell'appello che ha lanciato Deidda pensi che sia giusto raccoglierlo o abbia qui siamo in libertà possiamo anche dirci le cose con franchezza non è che siamo non facciamo fuffa no no nessun problema bello è giusto e corretto ma secondo me la motivazione per cui noi quando ci siamo incontrati ho sposato subito la loro causa è perché già me ne rendevo conto che c'era una problematica prima del covid c'era una problematica degli ordini della gestione del servizio specialmente nelle città che voi battete che sono veramente difficili dove un rappresentante a Milano ha 5 minuti di tempo da parlare con l'istoratore non è che gli dà mezz'ora come potrebbe essere in Friuli bevi un bicchiere e parla di questo no io quando ho fatto gli affiancamenti ok via quindi questo potrebbe sicuramente dare al ristoratore la possibilità di avere una cantina anche più bella la cantina da 600.000 non vuol dire niente perché può essere una cantina completamente sballata ma avere la possibilità di avere una cantina corretta che va a coprire tutte le fasce di tutte le regioni scusatemi anche le fasce di prezzo è lì la cosa vincente quindi secondo me la ristorazione loro è veramente un servizio in piacere che in questo momento possono dare al cliente ristoratore e anche al cliente finale perché poi se il ristoratore sta bene ha una bella carta e la fa girare sta anche più attento nei ricarichi perché se uno la fa girare bene non sta cioè gli preferisce vendere 6 bottiglie di vino in una sera invece di verga nelle due con un ricarico superiore quindi è tutto un po' il can che si mangia la coda va a cascata e va a cascata per tutti noi quindi mi sembra veramente importante far capire alla ristorazione la facoltà che ti può dare questo nuovo strumento fra virgolette che è basato sul servizio secondo me grazie Lorenzo Giovanni allora visto tutti i segnali incoraggianti lanciamo per i prossimi mesi la sfida di far conoscere The Wine Sider e poi vediamo come la prendono i ristoratori e che lì assolutamente ovviamente poi ognuno deve fare le scelte in funzione delle sue necessità noi né voi potete imporre a nessuno né tanto meno noi di fare delle scelte però l'importante è conoscere come si diceva conoscere per deliberare questo è importante quindi puoi aggiungere qualcosa su questo direi la vostra associazione è l'associazione leader nella categoria della ristorazione avete 55.000 associati ristoranti devo dire rappresentate la maggioranza della ristorazione qualificata mi sembra che tutte le discussioni stanno incentrandosi proprio sulla professionalizzazione portare avanti ancora di più la professionalizzazione e la gestione economica nella migliore maniera possibile solo una battuta noi per esempio quando diamo il vino in conto vendita per rispondere al presidente che giustamente ha fatto un'osservazione puntualissima dice io devo sapere quanto mi costa servire quel bicchiere a tavola se il bicchiere è di acqua minerale non ho coperto il costo se il bicchiere è di champagne forse ci ho guadagnato bene ecco allora per fare un esempio noi consigliamo tra i tanti consigli che spero che siano buoni cerchiamo di dare è ma se tu compri un vino a 5 euro lo puoi vendere a 15 anche a 18 perché c'è il servizio ma se vendi un vino che hai pagato 50 euro non venderlo a 180 ma vendilo anche 80 perché hai guadagnato di più con quei 30 euro poi se glielo diamo pure in conto vendita il problema finanziario non si pone hai guadagnato 30 euro mentre nell'altra maniera ne hai guadagnati 12 certo che la proporzione cioè non si può ragionare in termini squisitamente di proporzione ma in termini di costo cioè diciamo di guadagno assoluto ecco il cliente ha ragione uno champagne a 50 euro il cliente lo prende volentieri e dice ho fatto un affare e ringrazia il ristoratore ecco questo questo dobbiamo fare questo è chiaro quello che tu dici bisogna guardare la parte il valore assoluto della differenza che ovviamente qui scusami lo ribadisco non è ovviamente solo guadagno perché dentro ci sono tutti i costi del personale dell'assoluto eccetera assolutamente per chiudere se pensiamo pensate anzi noi lo pensiamo ne siamo assolutamente convinti che questa proposta questo servizio queste diciamo queste innovazioni possano aiutare la ristorazione noi saremo a fianco a voi e ai vostri associati per fare del nostro meglio perché visto che questo servizio in giro per il mondo non c'è ancora così completo e beh vediamo se riusciamo a esportare qualcosa invece che a importare hai visto mai che l'Italia diventa perfetto chiudo solo con una se vuoi fare Giacomo una battuta visto che siete congiunti quindi di distanziamento non contati posso dare anche lo stesso microfono no non c'è bisogno il distanziamento tra i congiunti non è ammesso quindi vuol dire che anche il microfono però è a parte la diciamo la battuta vuoi dire qualcosa per concludere poi vorrei far fare una battuta a un altro Oste dalla Sardegna alla Lombardia Matteo Scibile vediamo che ci dice speriamo che non ci dia qualche bacchettata ma sia vai no ma direi innanzitutto grazie dell'opportunità perché penso che sia molto importante affrontare questi temi e confrontarci è sempre molto utile e abbiamo davanti un momento veramente interessantissimo nel mondo della ristorazione italiana e non solo c'è in atto un cambiamento fortissimo e ci sono grandissime opportunità per tutta la ristorazione e per far sì che possa diventare come dire anche un punto di rinascita anche per l'Italia in generale siccome poi è uno dei nostri cavalli di battaglia della cucina e in questo caso anche il vino e c'è veramente una rivoluzione tecnologica da sfruttare e insomma quindi noi siamo pronti e fiduciosi di poter fare il nostro contributo avete qua il presidente di fuori casa nonché consiglia nazionale assiediatelo vedete Teo vai grazie due sole osservazioni da un lato non c'è ombra di dubbio che abbiamo bisogno di tecnologia e di servizio perché sempre più acquistiamo io sono un cuoco ristoratore e ho un ristorante nel centro di Milano in piazza della Repubblica e compriamo sempre più da distributori quindi da distributori che ci danno un cartone per tipo per avere un minimo di assortimento certo una volta avevamo 400 bottiglie in carta adesso ne abbiamo 150 su questo non c'è pari però c'è un aspetto che mi è sfuggito e vorrei lasciarvelo come se io bisogno di sapere il Pierre Sauvignon di Vie di Romance come è fatto ho bisogno che venga lui a spiegarmelo la tecnologia in questo caso dove si pone perché voi date un servizio ma noi ancora compriamo per emozione per passione per storia di un territorio come facciamo come fa la tecnologia a sopperire a questo però io bisogna ancora che venga lui a raccontarmi la nuova annata del suo chardonnay del suo Sauvignon oppure se viene capichera dalla Sardegna a dirmi il nuovo vermentino su Entu come diavolo è fatto capito quindi sotto questo aspetto noi ancora vendiamo ai nostri clienti emozione ma l'emozione la dobbiamo anche ricevere noi perché il mio problema non è soltanto la gestione tecnica o tecnologica della cantina ma io devo trasmettere questo al mio cliente e vi garantisco per chiudere che in questo momento a Milano sono circondato dei grandi alberghi di Piazza della Repubblica per fortuna gli stranieri bevono ancora grandi vini certamente per stare su quello che diceva il presidente Giancarlo il problema di ricarica è un problema serio io personalmente applico l'IVA e raddoppio soltanto con il risultato che vendo un grande barbaresco a 45 euro e si vende la cantina gira questo è un altro problema da affrontare però il mio punto di osservazione era solo questo l'emozione che io devo trasmettere al cliente che in qualche maniera la tecnologia mi porta via quindi su questo è una vostra responsabilità rispondi te e poi avete visto che abbiamo gente competente qualcosa ne capiscono ma assolutamente nel senso che noi pensiamo che la tecnologia vada come dire ad affiancare anche il valore umano che ne parlavamo prima appunto con Nicola sicuramente non si può sostituire questa cosa qui è anche vero che però oggi o troviamo dei sistemi che possono diventare un po' più come dire anche di diffusione più facili o altrimenti si rischia che poi parlavamo prima con Ilario l'ultima degustazione che è riuscito a fare perché non aveva tempo è stata nel 2019 è due anni che Ilario non riesce ad avere esatto Ilario lavorava lì e quindi è due anni che non riesce a trovare il tempo di fare una degustazione ecco The Wine Insider nel terreno del suo servizio si propone anche di fare formazione noi facciamo formazione anche fisicamente e Nicola è stato con me anche a qualche appuntamento che abbiamo fatto insieme quindi portando il produttore ma pensiamo anche che possa la tecnologia affiancare poi la presenza fisica perché facciamo un esempio se io sono un cameriere appena arrivato in un ristorante e Nicola è venuta la settimana prima è difficile riportare Nicola tutte le settimane se no sarebbe come tutti i giorni ma in quel caso la tecnologia ci può permettere invece di dare degli strumenti dove il cameriere si guarda sull'applicativo le schede tecniche il video di Nicola che racconta la storia del produttore e già inizia ad avere una informazione poi col tempo ovviamente alla passione si perfezionano le cose e si vanno anche a come dire creare ancora più più emozione però ecco la tecnologia aiuta anche in questo caso perché permette appunto di avere una visibilità e una condivisione di informazioni che prima era impossibile quindi solamente i più fortunati potevano andarci in cantina da Nicola o dal Marchese appunto nel Castello di Gabiano invece oggi possiamo quasi portarli noi da tutti questa cosa della tecnologia che accorcia le distanze e rende accessibile qualcosa che sarebbe accessibile con tempi e costi notevolmente superiori quindi poi è chiaro che si possono trovare momenti in cui condividere anche l'emozione dell'incontro con i produttori i ristoratori e sono d'accordo con quanto dice Matteo allora se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa io credo che abbiamo più o meno esaurito diligentemente il tema probabilmente abbiamo toccato tanti aspetti in un'ora e dieci minuti non si possono approfondire le cose però gli spunti le suggestioni ci sono non so se Gianluca vuoi dire qualcosa bene Gianluca Casella di The Winesider però credo che abbiano abbondantemente illustrato le cose vi saluto grazie a tutti per questa ora che ci avete dedicato e alla prossima occasione grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti